numero 4 la cosa sorprendente del mop vile da easy w ring and clean turbo è che è in grado di rimuovere più del 99 per cento dei batteri quindi non c'è bisogno di usare prodotti chimici aggressivi per ottenere una pulizia accurata la sua testa in microfibra è fatta di milioni di piccole fibre sintetiche e quando entrano in contatto con l'acqua le fibre si allentano e raccolgono fisicamente lo sporco i batteri è adatto a tutti i pavimenti duri compresi legno e laminato la sua testa è lavabile in lavatrice e può essere usata più volte per i migliori risultati si dovrebbe sostituire la testa della scopa con una nuova ogni stagione in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 perfetto per chi cerca un sistema di pulizia completo con cui iniziare subito a pulire i pavimenti il life height clean twist 2.0 contiene tutto il necessario per pulire con il manico telescopico il mocio micro duo il secchio con setaccio centrifugo e il carrello è particolarmente pratico e ingegnoso non c'è bisogno di chinarsi o sporcarsi quando si puliscono le piastrelle il manico telescopico è regolabile in altezza così ognuno può lavorare all'altezza che più gli aggrada il secchio con setaccio centrifugo è anche molto funzionale ha una maniglia per il trasporto e un supporto per la maniglia trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 vileda vi offre questo mop economico e pratico dotato di una testa girevole piatta assicura una facile pulizia della parte inferiore dei vostri mobili il suo rivestimento in microfibra due in uno lavabile in lavatrice a 60 gradi centigradi permette un assorbimento ottimale dello sporco ma anche di sgrassare e strofinare le macchie più ostinate l'efficienza del processo di pulizia è migliorata dalla pressa per strizzare efficacemente senza doversi bagnare le mani dato che il vileda ultramax è compatibile con diversi modelli di ricarica per coperchi come ultramax sensitive ultramax micro e cotton non avrete problemi a sostituire i suoi accessori trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 dotato di un manico longitudinale per la facilità d'uso questo mop viene fornito con un secchio d'acqua con un beccuccio per un facile svuotamento dell'acqua usata i suoi due tipi di fibre assicurano un'efficace pulizia del pavimento da ogni tipo di sporco le fibre bianche che sono microfibre al 100 per cento per un assorbimento ottimale e le fibre rosse che permettono di raschiare lo sporco ostinato senza graffiare il pavimento per assicurarsi che gli utenti siano soddisfatti vileda fornisce il suo prodotto con due ricariche acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione